Nella domenica di Pasqua noi ascolteremo l'annunzio della risurrezione e il Vangelo che nella notte pasquale viene proclamato, è uno dei testi sinottici, quest'anno è il Vangelo di Luca che fa proprio vedere il momento della risurrezione conclamata di Cristo e l'incontro con Gesù risorto. È curioso che invece nella messa del giorno, la messa del mattino, noi ascolteremo il momento in cui Maria di Magdala scopre che la pietra è tolta dal sepolcro e che non c'è niente dentro quel sepolcro. Noi infatti ascolteremo questo Vangelo che è il racconto di questa corsa, di questo movimento di Pietro e del discepolo amato fino al sepolcro che trovano il sepolcro vuoto, è la tomba vuota ciò che viene proclamato nel giorno di Pasqua. Il testo non è facilissimo perché di fatto è incompleto, Gesù non è ancora apparso, infatti terminerà il testo, infatti non avevano compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti, dalla notizia, ma non vediamo Cristo risorto. È un po' in un certo senso frustrante, mentre nella messa vespertina potremmo anche scegliere di leggere il testo dei discepoli di Emmaus perché quello è un fatto che avviene proprio la sera di quello stesso giorno. Noi vediamo questa mattina un po' deludente, cioè succede qualche cosa, ma come mai la liturgia ci mette questo testo per celebrare la Pasqua nella luminosa domenica di Pasqua. Vediamo un pochino di capire cosa è nascosto di meraviglioso in questo testo. Maria di Magdala si reca al sepolcro quando è ancora buio, siamo ancora in questa notte gravida della resurrezione di Cristo, è successo qualcosa e vede che la pietra è tolta dal sepolcro. È successo qualche cosa. Allora cosa fa? Corre e c'è un primo movimento. Inizieranno qui tutti a muoversi, a correre, andare di qua e di là, ma corre e va da Simon Pietro e dall'alto discepolo, quello che Gesù amava, e dice hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Qual è la prima interpretazione che Maria di Magdala dà di questo fatto? Un'opera umana. Gli uomini hanno fatto qualcosa. C'è una sola spiegazione. Se un corpo non sta più dove lo abbiamo lasciato ed era un corpo cadaverico è che qualcuno lo ha spostato, che ha mosso la pietra, che ha portato via il corpo ed è la prima spiegazione che noi diamo alle cose. Dobbiamo fare un salto perché si può vivere tutta la vita semplicemente orizzontali, così, sulle opere umane e vivere semplicemente di trovare i colpevoli. Se c'è qualche cosa che succede noi cerchiamo chi è che ha fatto questo. Noi non sappiamo chi è il colpevole. Il cluedo esistenziale che ha iniziato è questa forma di vivere, di reagire alle cose. E se Dio avesse fatto un'altra cosa? E se ci fosse un'altra spiegazione alle cose? E se Dio avesse un'altra soluzione? E qui infatti noi stiamo iniziando a impattare contro quello che la Pasqua sempre significa. Significa qualcosa che Dio fa che non è nel nostro calcolo. L'antica Pasqua è la Pasqua in cui il popolo ebraico trovandosi in un piccolo cieco davanti a un mare inseguito dal nemico che lo vuole massacrare scopre la via di Dio, scopre l'altra esperienza. Questo non ci si entra intellettualmente. Veramente non sappiamo dove lo hanno posto. Veramente non sappiamo le cose. Noi scegliamo fra le opzioni orizzontali e apertura piccola piccola che c'ha nel nostro cuore di pensare che forse è successo qualcos'altro, qualcosa che non so. Infatti il testo finirà con questa definizione. Non avevano ancora compreso la scrittura. Che cioè egli doveva risorgere dai morti. Quello che nel Vangelo di Luca sarà il tema di un Cristo che appare e spiega le scritture e quindi loro arrivano a quello che è successo. Qui viene detto in una frase. Il punto è che c'è qualcosa che è diverso. Ecco, i discepoli partono per andare a affrontare quello che è l'esperienza del contatto, dell'impatto con questa tomba. Corrono insieme ma il discepolo amato arriva più veloce. I pati della Chiesa vedono in questo fatto che l'amore arriva prima della ragione. L'amore arriva prima della struttura perché Pietro è il principe degli apostoli. Ecco, ci arriverà anche lui. Però quello che noi dobbiamo vedere qui è che ci sta una velocità diversa. Noi siamo di fronte a qualche cosa che è l'inspiegabile. E chi entrerà dentro questa realtà? Certamente il discepolo amato. Questa struttura duplice, questa coppia, Pietro e il discepolo amato, compare nel Vangelo di Giovanni in altri momenti. Ed è molto importante. Per esempio, nella scena dell'apparizione di Gesù sulla spiaggia del lago di Tiberiade, molto tempo dopo, al capitolo ventunesimo, quando faranno la pesca miracolosa, sarà il discepolo amato che riconoscerà che è il Signore. E così, questo è il discepolo che in realtà lo introduce nel momento più tragico della vita di Pietro, il momento in cui tradisce il Signore. Però sarà lui che lo fa entrare, almeno sembra proprio che sia questo il discepolo, che lo fa entrare nell'atrio del Sommo Sacerdote, lì dove lui rinnegherà il Signore. Allora cosa succede? Che c'è sempre questa complementarietà. Non ci si arriva mai da soli alla resurrezione, ci si arriva in una chiesa, ci si arriva con i fratelli. Non è un'esperienza privata, è un'esperienza fraterna, è un'esperienza che implica un'elaborazione ecclesiale. Ciò che risorge non è un Dio individualista che risolve i miei problemi e mi mette nelle cose secondo un benessere migliore, ma è quello che illumina tutte le relazioni. Perché se la resurrezione di Cristo non diventa relazione fraterna, è cieca, non serve a niente. È un evento che porta all'amore, ma è l'amore che lo capisce. Ecco, arrivano e cosa vedono? I teli posati là. Entrano, quando entrano tutti e due? C'è il sudario avvolto in un luogo a parte. Cosa sono questi oggetti che devono vedere? Come è uscito Cristo? Non è uscito con gli abiti di questo mondo. Deposto l'uomo vecchio, noi nel battesimo entriamo nella vita dell'uomo nuovo e rivestiamo Cristo. L'abito di un corpo risorto non è rimettersi addosso quello che è per la morte. Altri Vangeli diranno non cercate tra i morti colui che è risorto. Quando si incontra la resurrezione di Cristo si cambia l'abitus, si cambia l'abitudine. I battezzati porteranno una veste candida per una settimana fino a deporla la domenica successiva, deporla nella tradizione usa, deporla sulla tomba di un martire per chiedere la fede dei martiri. Quel che succede è che è un segno che deve essere deposto, deve durare una settimana solamente perché poi si deve passare dagli abiti alle abitudini, dalla copertura alla vita, ai gesti, alla realtà. Però è interessante che questo segno della novità implica una veste di luce. Cristo non può servirsi degli strumenti che erano gli strumenti che servivano a un cadavere. Si abbandonano abitudini, abiti, oggetti. Quando si incontra la vita nuova si lasciano per strada cose. Ci sono cose che sono completamente vecchie, ormai non ci servono più. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove, dirà la seconda lettera ai Corinzi. Ed ecco che entra anche l'altro discepolo, giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Cioè in questo momento finalmente si apre all'impensabile, all'opera di Dio, a quello che è la dimensione autentica di Dio. Dio è onnipotente, Dio può dare la vita eterna. Cristo non è rimasto nella morte. Questo luogo non è un luogo di arrivo, è un luogo di partenza. La scrittura preparava questa grandiosità, questa meraviglia. Ed ecco, qui è il punto. Fino adesso capivo con le mie categorie. Adesso finalmente la scrittura mi dà le sue categorie. E io intendo, ma certo, ma certo, era questa la strada. Quante volte nella nostra vita abbiamo dovuto riconoscere che quella che ci sembrava una via di morte era una via di resurrezione. Seguire Cristo non è seguirlo per fare un'esperienza di miglioramento etico o cose secondarie simili. Si tratta di andare alla vita, di entrare nell'esistenza nuova, di entrare in ciò che va oltre la morte. Questa strada noi non la conosciamo. Questa è un'opera di Dio. Questa è la sapienza delle scritture che vanno preparando sempre più quello che in questo giorno di Pasqua si celebra. Che Dio rende accessibile la vita per una strada che non è la nostra. Veramente le nostre vie non sono le sue. Apriamoci alla sorpresa di Pasqua. Apriamoci a vivere secondo la sorpresa di Pasqua. Perché vivere iniziando a confidare nella potenza di Dio che trova la via d'uscita che noi non ci aspettiamo e che non è una via d'uscita che passa per le cose di questo mondo, che depone questo mondo, lo lascia da parte, è ormai poco interessante. Ecco, questa è una via che diventa un modo di esistere, un modo di esistere meraviglioso. La vita dei risorti.